Francesca Gelmini, capo gruppo donna. Questo è l'ennesimo segnale insieme alla disposizione che il 40% delle candidature stanno in rosa a livello nazionale ma probabilmente anche a livello regionale di questa lista che vuole un cambiamento effettivo. Sì, indubbiamente consentire alle donne di mettere finalmente, oltre che il proprio volto, anche il proprio cervello e la propria parola in ambito pubblico politico è sicuramente un'occasione preziosa per la Lombardia e per tutto il paese che indubbiamente richiedono un cambiamento cruciale e sicuramente le donne, non in quanto tali, ma portatrici di una nuova freschezza, di un nuovo pensiero, di nuove attenzioni e anche di nuove competenze possono fare la differenza. Tu vieni da un mondo che è quello delle ACLI. Questa è una lista che dietro ha il centro-sinistra. Come trovi conciliabili queste due posizioni che su certi temi sono sicuramente distanti? Allora, indubbiamente non posso negare la mia appartenenza alle ACLI in quanto sono consigliere a secondo mandato, ma devo dire che da oggi, cioè il giorno di presentazione della candidatura, rassegnerò le mie dimissioni in quanto il nostro statuto prevede una incompatibilità anche solo per chi si candida. E questo credo sia il segno più chiaro del fatto che le ACLI, come anche tutto il filone di associazionismo di cattolicesimo democratico, rappresentano un'apertura all'inclusività dei posizionamenti più diversi anche in campo politico ed ideologico. Ritengo che queste appartenenze siano un valore aggiunto in quanto, essendomi sempre sperimentata in ambito associazionismo, dell'associazionismo non solo ACLI, ma anche del CAE, legato alla montagna o ad altri mondi, grazie a queste esperienze ho potuto sperimentare l'interlocuzione con i mondi più lontani e quindi sperimentare quello stare sul confine che consente di aprire un dialogo con tutti e questo con l'obiettivo davvero politicamente di costruire una regione che sia inclusiva di tutti nel rispetto della dignità di ciascuno e delle scelte personali di ciascuno, sia attinenti la vita personale ma anche attinenti ovviamente la vita pubblica e la gestione della cosa pubblica.